la fine li annaffiano una volta sola va bene va bene ragazzoli siamo al momento della posa dei motori la vuole fare lei ah già l'ha fatto i motori io ho il legno necessario per farli quindi lo faccio io e poi te le do a te allora io sono talmente stronzo stronzo ma proprio allora la scheda elettronica cosa serve farla ingotto di rame e traccio appiccicoso allora noi intanto non ci fermiamo qua noi vogliamo proseguire cosa e rimaniamo ancora di qui ma io direi di proseguire allora di qua e c'è da prendere dieci corde benissimo e hai voglia di foglie e poi raga perché qui c'è un non chiediamocelo il perché allora uno due nooo che è successo ah giustamente perché sono big 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 fava ah è una big fava lei è una big farm big farm italian farm freshening 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 non posso passare allora venga qua venga qua venga qua venga qua come cazzo sta andando sta faccio ciò a capità a capità e qua non si capisce che cazzo vuol fare qua oh mamma mia cagamo cazzo capità cazzo 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 capità va bene che è successo non ci muoviamo perché non ci muoviamo ah aspetta però che l'ho messo un cassone da un vitto scusa eh no è stato un un cassone da proprio con tutto il cuore cosa avrà voluto dire no no un mocca solita molto scusi navigante qua non abbiamo un problema siamo rimasti qua incaglieti incaglieti sì perché non ci muoviamo eh scusami eh vento completamente contrario come cazzo devo mettere come cazzo le devo mettere se al contrario le vere al contrario così così vai ma controlla lì se ci andiamo a sbattere ma così ci dove andiamo qua noi dovremmo andare diritto di là come cazzo ci andiamo con motori ci vai dritto di là guardi ti vado a piazzare sì venga qua le prenda sono due dove stanno qua ecco qua senti vedi controlla se ah lì c'è una già zattele se ti serve controlla se andiamo a sbattere contro la ceppa di primizia allora controlliamo no va aperto il pavimento per la no voglio vedere prima eh vabbè non mi fa vedere questi sono i tubi i tubi che mettiamo vedi ci stiamo muovendo stiamo allontanando sì controllalo tu la barca ma mentre io mi ti procazzo se io ma mi vedi che dici qua va bene prima di rompere qua va bene ok allora dobbiamo rompere allora due i coglioni due vero due due sono no dico ricchi premi e cotillones no quanto cazzo devo devo chiudere devo perché non si mette guarda che si è orientato bene bisogna aprirne tre ah tre ok tre perfetto eh no non mi trovavo in questo perfetto ok one eccolo e questo lo mettiamo speculare con la ruota che guarda qui eh si qua sono uno due tre quattro questo secondo me abbiamo fatto un po' troppo uno due tre quattro no no qui qua uno due tre ok perfetto eh no perfetto un cazzo che tieni cominciando andiamo di là eh no no non va bene cosa eh altrimenti come facciamo andare di qua no al contrario andava messo eh x ti diamo oddio non c'è l'ancora già sbrigati a metterlo che c'è da rimetterlo ancora eccomi che spita faccio vaffatti una storia ok facciamo qui tirata sì ma perché scusa perché di là c'è il 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 cosa da tirare qua altrimenti come facciamo se sta proprio vicino vicino non non va 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 vabbè si vengono decentrati così vabbè vabbè ok no perché di là se tu no dici abbiamo la la manovra di direzione se noi facciamo una cosa del genere poi anche perché poi l'angola dovremmo metterla poi ma che è successo perché non non ci muoviamo perché c'è un'isola ah ok questo è da esplorare comunque quindi io questo permesso vado in esplorazione eh sì ecco io c'ho da mettere a posto un sacco di roba lei non si perocchi vado io in ava scoperto o almeno prendiamo i semi di palma che siamo a corto con il metadetector che ci manca per farlo la il lingotto di cosa no ci ci manca da arrivare sì a parte il progetto no dico come costruzione non ci manca nulla cioè fai scifo proprio palma nemmeno un semi e che cos'è e che cos'è e che cos'è già un momento eh almeno il mango ci ha dato un semino te zero il potto zero dai benissimo due palme e due semi ma da una palma solo che schifo che schifo benissimo allora rottami che ci servono a bomba a palate quante palate ma non sabbia e coso abbiamo detto di no no va bene abbiamo trovato un'isola che non abbiamo ancora depredato guarda lì che bello rame la zattera è sempre in piedi come la zattera è sempre in piedi ora affonda ecco il colino sembri in piedi allora ragazzi dovete sapere chi è il colino sembri in piedi dovete sapere che una volta i giocattoli non erano come ci sono ora c'era questo pupazzo questo questa pallone ecco a forma di persona con l'acqua dentro sì che nonostante i colpi che tu li davi tornava sempre è tipo un sacco da box ma messo in terra con della sabbia dell'acqua e mia madre ce l'aveva per allenarsi e darmi gli schiaffi quando serviva chiamiamoli schiaffi schiaffi direttamente la padella dove fai le patate fritte o gli zoccoli quella di legno belli quelli ancora quelli facevano ancora più soddisfazione quando ti arrivavano in faccia ti lasciavano che la nonna mia nonna paterna quando mio padre faceva qualcosa di male una volta gli tirò quello che aveva a portare in mano quello che gli tirava appresso e una volta aveva per le mani la forbice infatti mio padre aveva il segno in mezzo al naso tra i naso e gli occhi proprio la punta della folla che mira mia nonna è una cosa pazzesca non l'ho conosciuta perché lei è morta prima ancora che mia sorella ma c'aveva un mese mia sorella forse quando mia nonna è morta allora già un po' sì io l'81 è morto io tre anni dopo sono nato quindi però i segni c'erano evidente ci credo ecco come oggi dovrebbero essere educati i bambini a forbiciare o al zoccolare invece no sono i bambini che educano i genitori al zoccolare a testare in faccia e se non gli dicono i fondi 1000 euro si incazzano pure perché te non fai così? no non ne ho bisogno io ho un neri 2 120 euro e vai va bene così bomba dai eh bombano bombam arriveremo a Roma allora vediamo se qua sotto c'è una caverna delle meraviglie oppure un cazzo proprio dicevo ma qui sopra allora ci vuoi chiudere col pavimento yes io sto io credo che qua sotto proprio sotto alle isole in fondo in fondo in fondo in fondo con la maschera ovviamente si deve andare e con le bombe ci sia qualcosa ehi ma secondo te non ci sei già provata noi non c'è niente ti posso assicurare che non c'è nulla nulla ok niente niente da fare non c'è più niente da fare vabbè allora capità io ritorno kakamukatsu come le desidero ho raccolto un bel po' di cose beh io penso che quella sia la cosa la cosa più trash che abbia mai visto kakamukatsu capito perché perché ahahahah ahahah non urla poi ehm kakamukatsu capità ahahah palla allora mettiamo le cose appuisce guardi guardi dica poi qui vuole fare un accesso immagino al palchetto quindi si si io voglio o la dis si io intanto mi assetto un po' ahahah la guardo lavorare eh italiani italiani cosa è vero con te ahahah too much volume eh too much style too much too much too much c tu mangiare via mangi niente parisciare niente pp un panciare un tt costumano cia quando mangiare le poppette no 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 Questi sono poppette di Bavaria No, non sono poppette di Cemani Porca pittà Questi sono poppette di Cemani Mmm, molto buone Che bastardo Io vado a prendere il binocolo e vedo un po' Ma che cazzo sta a fare? Questo sta mangiando come un porco Ma che è? Ma che è? Ma che è? Allora, andiamo in Paparapam Paparapam Ah, ragazzi, per chi lo vuole sapere Il signor Harrison Ford sta facendo l'ultimo quinto capitolo della serie Indiana Jones Indiana Jones Esatto Dove lui Mr. Jones Mr. Jones Mr. Jones Mr. Jones Mr. Jones Ma quello era Dr. Jones Get up now, go up now Jones, Jones Ma io penso che sia preso da lì Wake up now Sì Il video sì Che cazzo ci erano fatti gli acqua che erano bellissimi Lei era la nostra figa Vabbè, qua non c'è un cazzo proprio, capitato Bisogna andare sulle isole grosse E capitano mio Se la corrente ci spinge Lontano e lontano Ora carico i motori, vai tranquillo Ora carico i motori Questi non sono ancora sviluppati Sono sviluppati D'altra parte Io c'ho una cassetta di Federico Salvatore Le anacque questi qui, ma le hai messe ora? Sì sì Adesso le ho messe Ah ok 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 Sì Ne anacque, non si almeno le spaccoli Eh non ho acqua, un attimino sottanto Don't have water Non tengo dei nero, no 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 Scriviamo la porta, altrimenti andiamo a mare Giuliano la prostata Giuliano la prostata è bellissima Ah Giulia Eh Ma va Ah un cu Caga Caga Muga Ehm Questi i motori come vanno? Eh? I motori come vanno? Allora bisogna caricarli Yes Tramite Queste qua Metti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Come vedete il vapore aumenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 e 10 Sì Sì Questo è l'indicatore del carburante Ora sono carichi Eh? Appena gli dia il via Mh Allora proviamo allora Andiamo un po' eh Levala ancora un attimo Uno Andiamo un po' Vai a bomba ragazzi Ovviamente Ovviamente Per farli andare un po' più veloce C'è bisogno del carburante Non basta Cioè Ehm Spingiamo Ragazzi Troppi blocchi la nave Quindi ne serve Perlomeno un altro Un altro motore Che metteremo Io lo so dove metterlo Però Dobbiamo portare la baracca un po' più avanti Cioè Questo pezzo qua Portarla avanti Un po' più avanti Portarla un po' tutto avanti Perché qua No Sì Non sei mica matto eh Nel caso S'allunga la barca Dietro Anche Anche Però Io Siccome Stamma sentito Leverei l'ancora di qui Lo metterei qui Dove? Qua? Sei tu? Qui Sì Leverei l'ancora E poi l'ancora si mette Più là Insomma Ehm Nel caso Ora non si può fare Perché non abbiamo legno Allora noi facciamo così Però Quando è cresciuta la roba Qui forse Eventi di legno ci si fa Quindi Vediamo Facciamo crescere la roba Pianto anche dei manchi Che cazzo sta l'ancora 100 blocchi Fate conto che noi Sulla nostra Ne abbiamo 6 Di motori Certo Abbiamo un V6 E quindi Sì 6 motori Yes Andiamo Eh ma tu stai girando di là Bello Tu non ne gira di là Ah bello Te non devi andare di là Te devi andare di qua Sì vabbè Ciao Vabbè No Ecco A posto Che c'è Come mai c'è stata questa manovra evasiva È perché stiamo cambiando proprio direzione Ecco Adesso sì Che non stiamo andando a un cazzo di Ma porco due Porco Ah aspetta 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 Il vende è cambiato Ascolti Io sono in mare Non mi lasci qui No no E butta l'angola Ancora Aspetta No 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 Tutta buona Sono qui Sono qui Ecco qua In teoria adesso dovremmo andare Giusto Qui c'è un cancelletto È normale È strano ormai Perché ho finito i ghioli No ho finito i ghioli Avevo finito i ghioli Poi non l'ho fatto più Vediamo Sopri Non ti La 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 Siamo Mocca Sora Allora Diciamo che Io stavo uscendo in mare Ria abbiamo L'occorrente Per fare i motori Bene E li abbiamo fatti In teoria Dovremmo Averli Allora Quindi ci mancano 5 lingotti Di metallo Motore Fatto Motore Scrauso Allora dove che mancavano il cancello Blu cancello Ah qua Aspetta Qua manca Eh Cristo Lo dicevo io Che l'avrei bestemmiato Prima o poi Voi non volevate credere Vai Scusa Chiuditi in eccesso Vai Ok Altro motore Ok Vediamo un po' eh Vediamo un po' se Con tre motori Funziona Uno Due Allora Questo è importante Trova un po' Fa che Le va all'ancora L'ancora Già non c'è Come già non c'è Già non c'è Già stiamo navigando Porca puttana Quanti Quanti ce n'ha di blocchi Allora Che cacchio ne so Non ne so mica io Allora Allora non vorrei contrariarla eh O stiamo per andare di nuovo Alla nave della storia Oppure ci stiamo avvicinando a All'isola che non c'è A bomba pure stiamo andando Stiamo a 399 miglia Allora 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 E ce l'abbiamo dietro a culo Non mi dica Ha del legno Guardi Sulla parte destra Della nave Hai voglia di legno Sì 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 Cosa Eh Vieni un attimo qui sopra Non accorgi Eh C'ho da Vieni un attimo qui Sì sì Fai Fati Fati Eh Il problema è che Non bastano 3 motori Ce ne vuole 4 Ehm Che è E che cos'è Dov'è Eh Guarda Guarda sopra In teoria Dovremmo esserci Molto vicini Sì Ma non possiamo andarci Ci fanno il culo Ma guarda L'usso non è che È cattivo Ti ho capito Però dobbiamo Sempre fare Scorso animali E tutto quanto Indubbiamente Senti una cosa Se noi ci andassimo E andiamo a recuperare La cosa Come si chiama La La spada La Come cacchio Si Ma c'è Non dovrimmo Non dovrimmo Ma c'è Ma c'è Ma c'è Grazie a tutti.